Parigini che parte poi fin da Parigini che grandissimo gol all'ottavo minuto mamma mia il gol di Vittorio Parigini Sprins in aria di rigore palla sul sinistro poi il suo tiro cross che occasione per il Brescia Galano palla per Maniera con il destro la parata di Minelli in calcio d'angolo Galano dalla bandierina palla che rientra Maniero e poi ancora Moras la rovesciata tentato da Salsano Frettori ad uscire Minelli con i pugni non granché la porta rimane vuota e Moras fiore il gol del 2 a 0 Colì è bravo riesce ad aprire per Bonassoli con il sinistro Micai grande parata Parigini sfugge sulla sinistra palla nel mezzo Macek, Galano, sinistro e palla alta 3 contro 3 Parigini, Maniero arriva anche Galano eccolo servito Galano palla sul sinistro Galano è il gol del 2 a 0 il quinto gol di Cristian Galano calcio di rigore per il Brescia a terra Sbrissa parte Mauri sinistro Micai devia vuole palla anche Floro Flores la riceve al limite Floro Flores il destro la palla è fuori e qui arriva anche il pischio finale da parte di Gersini il Bari vince 2 a 0